signori buongiorno bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale nell'ultimo periodo abbiamo parlato di mega dungeon e nega dungeon e un sacco di gente sotto nei commenti o sui social del canale hanno detto che il fatto che ne abbia parlato gli ha fatto venire voglia di portare qualcosa del genere al tavolo per i loro giocatori immagino quindi che là fuori ci sia un sacco di gente che non aspetta altro di beccarmi in un vicolo per farmi la pelle dato che a quanto pare i miei video sono particolarmente influenti e soprattutto al fatto che io ci tengo alla mia pelle questa settimana vedremo di parlare di qualcosa che almeno apparentemente meno letale per i giocatori lo abbiamo già visto nei vari video di storia gli anni 70 sono stati particolarmente influenti per il gioco di ruolo è uno dei lasciti meno discussi in realtà è un adattamento che viene dal giornalismo ma che poi è andato a influenzare il mondo del gioco di ruolo diventando un vero e proprio stile di narrazione il titolo del video lo avete visto questa settimana andiamo a parlare di gonzo correva l'anno 1971 il giornalista sportivo hunter thompson viene mandato nel deserto del nevada a seguire la corsa automobilistica mint 400 durante l'incarico thompson decise di prendersi anche il tempo di godersi un po' la vita a las vegas per poi scrivere un reportaggio sull'intera vicenda che ebbe molto seguito soprattutto per il particolare stile giornalistico di thompson che mischiava fatti di cronaca con le sue impressioni personali il tutto condito da un abbondanza e dose di droghe allucinatorie se la storia vi sembra familiare è perché da questo reportage è poi stato tratto il film paura e delirio a las vegas cosa c'entra però un giornalista strafato negli anni 70 con il gioco di ruolo thompson era noto con vari pseudonimi il più famoso di tutti è quello il dottor duke ma un altro di questi era appunto gonzo e gonzo fu poi il nome con cui venne chiamato quello specifico tipo di reportage in cui venivano mischiati reali notizie cioè fatti realmente accaduti con impressioni personali e elaborazioni anche fuori dagli schemi del giornalista che scriveva il reportage poi per osmosi culturale gonzo diventò il termine con cui si fa riferimento a tutto quel tipo di letteratura che mischia fatti concreti con situazioni bizzarre oniriche o al limite dell'allucinatorio e immagino che adesso molti di voi stiano cominciando a capire stiano pensando che si effettivamente hanno partecipato a quel tipo di quest nel gioco di ruolo ci si riferisce a gonzo quando si vuole intendere che quella scena o molto più probabilmente l'intera ambientazione della campagna è presentata in maniera surreale o iperbolica molto spesso mischiando elementi apparentemente contraddittori tra i loro le sue origini si rifanno proprio all'inizio della storia del gioco di ruolo molto spesso si fa l'errore di pensare che il gioco di ruolo sia sempre esistito nella forma in cui noi lo giochiamo oggi con il master i suoi giocatori che cercano di creare un'ambientazione curata e il più coerente possibile e in cui esistono letteralmente in commercio moduli di giochi di ruolo di ambientazione che si fanno proprio vanto di quanto il loro setting sia accurato ricercato storicamente verosimile o quello che è per noi contemporanei il gioco di ruolo è una forma di espressione narrativa in cui ci si cerca di avvicinare il più possibile alle ambientazioni che si possono vedere nelle serie cinematografiche o nei romanzi per la prima generazione dei giocatori di ruolo in realtà le cose non diverse per quanto ci fosse già all'epoca chi cercava di creare ambientazioni coerenti il gioco di ruolo era ancora un'evoluzione diretta da quelli che erano i giochi di strategia ne abbiamo già parlato in un video non starò a ripetermi ma l'idea per il master non era tanto quella di fornire sui giocatori una grande trama vincente all'interno è un'ambientazione estremamente curata ma di fornire qualche idea interessante per i giocatori in modo da rendere i combattimenti entusiasmanti e magari avere anche la scusa per farsi quattro risate mentre si portava a termine la serata in poche parole che tutto quello che venisse mostrato in quest avesse perfettamente senso fosse estremamente accurato e coerente non era sicuramente la priorità per il master fate però molta attenzione a non fare l'errore di pensare che per portare al tavolo qualcosa di considerabile gonzo basti buttare assieme roba che non ha alcun collegamento o peggio che una quest gonzo non debba avere una logica e debba essere semplicemente un insieme di fatti buttati a caso giusto per far tirare i dadi ai giocatori quello non sarebbe gonzo se vorremmo essere aulici potremmo definirlo dadaismo molto più probabilmente e semplicemente mancanza di voglia o di esperienza da parte del master nell'incarnazione contemporanea definiamo gonzo quel genere di scenari quest ambientazioni o quello che è in cui il master predilige inserire scene o situazioni di alto impatto per la trama o più spesso di alto impatto proprio per i giocatori senza stare a curarsi troppo di quale sia la coerenza interna e l'ambientazione o su quale ripercussione queste cose potrebbero avere a livello di mondo di gioco il pacifico villaggio degli uomini castoro sta venendo attaccato da degli scheletri con i fucili laser che li rapiscono per portarli dal loro capo un necromante cyborg che vive in una montagna a forma di teschio il gruppo di gioco formato da un barbaro con uno spadone e un pistolero alieno dovranno superare un mare di lava scalare la montagna e sconfiggere il necromante cyborg prima che sacrifichici gli uomini castoro al suo patrono demoniaco la vostra prima reazione probabilmente sarà quante cose a caso sono appena state dette ma per quanto i singoli elementi di questa storia sembrino presi da ambientazioni e stili diversi e scarsamente collegati tra i loro la quest nel suo insieme continua ad avere perfettamente senso la storia rispetta la struttura degli atti c'è un avversario definito i personaggi hanno una motivazione chiara e probabilmente indipendentemente da quale sia il vostro sistema di gioco preferito probabilmente sareste già in grado adesso di stirare un minimo di adattamento per farla effettivamente giocare ai vostri giocatori ovviamente se il master e il suo tavolo volessero giustificare razionalizzare ogni singolo elemento avrebbero un lavoro molto lungo da fare dovrebbero giustificare perché esistono animali antropomorfi come mai il livello dell'ambientazione sembra abbastanza avanzato da avere cyborg e fucili laser ma ci sia dentro gente che combatte con lo spadone come fa a esistere un intero mare di lava in un pianeta che abbia un'atmosfera respirabile per gli umanoidi e come faccia l'alieno a respirare in quell'atmosfera questo non vuole comunque dire che sia impossibile farlo anzi esistono ambientazioni come ad esempio Nume nera il cui core concept è appunto presentare un mondo che giustifichi incongruenze del genere ed effettivamente un mondo del genere può anche avere senso il fatto è che in un quest gonzo semplicemente nessuno al tavolo sente il bisogno di inserire in quest quelle giustificazioni l'importante è che in linea generale il senso della quest e i suoi elementi fondamentali debbano essere mantenuti il malvagio ha rapito le persone per scopi malvagi e gli eroi devono andare a fermarlo è una quest relativamente comune all'interno del gioco di ruolo per cui non c'è bisogno di scendere in motivazioni ulteriori né di andare a creare più verosimiglianza perché la quest possa essere giocata ricordatevi sempre che per quanto voi vi siate sforzati di presentare un mondo di gioco accurato coerente ricercato già solo per il fatto che si tratta di un mondo fittizio che voi fondamentalmente avete scritto per ambientarci dentro le avventure renderà il tutto in qualche modo o approssimativo o probabilmente incoerente in un'ambientazione gonzo tutto questo non solo non viene visto come qualcosa in negativo ma non viene anche visto come qualcosa in cui bisogna effettivamente preoccuparsi più di tanto il master semplicemente procede a inserire elementi nel mondo di gioco nella trama in base al quello che renderebbe la cosa più avvincente per i giocatori fin tanto che qualcosa è impressionante a descrivere o comunque interessante con cui avere a che fare in quest quella cosa va bene diciamo che un mondo gonzo non viene pensato partendo da presupposti di politica economica o relazioni sociali tra i vari gruppi all'interno ambientazione ma più che altro seguendo direttamente the rule of cool analogamente a quello che abbiamo detto quando abbiamo parlato del nega dungeon vi lascio il video qua su se dovete andarlo a recuperare quello che rende gonzo un'ambientazione gonzo non è infatti tanto quello che viene presentato al suo interno ma il modo in cui viene presentato e soprattutto il modo in cui viene descritto ai giocatori all'inizio del video ho citato paura dei rio a las vegas ecco quel film è basato su fatti realmente accaduti solo che il modo in cui sono presentati li fa sembrare essere una sorta di epica saga mistica con le situazioni che vengono ricostruite in maniera assolutamente iperbolica come se tutto avvenisse in una sorta di mondo magico invece che essere semplicemente il racconto di un fine settimana in cui due tizi hanno veramente fatto uso di troppe droghe allo stesso modo se io vi presentassi una quest dicendo che allora tu sei un giocatore che sei tipo uno sbiro roba simile poi lui suona il violine un artista strano comunque allora dovete andare c'è una barca no e poi c'è della gente che balla in cerchio intorno a una statua però sono a palude e poi vi sparano addosso perché tipo un mostro pesce che viene da oltre allo spazio gli ha convinti di essere un dio l'impressione che darei è che la quest sarebbe fortemente gonzo in realtà ho semplicemente descritto una storia abbastanza banale di The Call of Tulu per chi conosce i miti di Cthulhu o comunque conosce il gioco The Call of Tulu probabilmente ripensandoci tutto quello che ho detto ha perfettamente senso in quell'ambientazione ma se queste cose vengono presentate decontestualizzate cioè se quel layer di razionalizzazione dell'ambientazione viene tolto tutto quello che ho detto diventa semplicemente gonzo e il concetto di base appunto questo questo non è strettamente legato all'argomento di questo video ma ritengo sia un'informazione importante da darvi il funerale del dottor drake avvenne con le sue ceneri che furono sparate da un cannone da johnny depp i due erano diventati amici perché johnny depp fondamentalmente visse a casa sua per quattro mesi quando doveva prepararsi per interpretare il suo personaggio in paura e delirio ad as vegas e poi se ne andò rubandogli i vestiti perché voleva usarli come costume per il film non credo ci sia un modo più gonzo di questo per fare un funerale detto questo comunque ora la parola sta a voi ditemi nei commenti qui sotto se voi effettivamente avete usato un'ambientazione gonzo volontariamente o involontariamente so che ci sono tanti di quelli che seguono i video che in realtà sono più per l'ambiente usr che quello trad e nell'osr il gonzo è molto più rilevante che nel gioco tradizionale e ovviamente ditemi anche se adesso vorrete inserire i vostri personaggi un ambientazione gonzo e guardarli allegramente mentre giano confusi incapaci di capire come funziona questo posto come sempre se il video vi è piaciuto mettete un like condividetelo che è dovuta crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche se le notifiche non vi arrivano in descrizione trovate i link al server di discord e al gruppo i telegram dove metto io gli annunci dei video manualmente per il resto io sono il master kai e noi ci vediamo nel prossimo video grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti